Buongiorno a tutti, oggi ci torniamo alla chiesa di Stani con la sera sera di Lazzano. Dormiamo con un salto di quattro campane, adesso ascolteremo sempre il mezzo giorno. Qui di spaventampo vado a vedere questo campanone, questa mezzata e mezzana suonando. Questo l'ho usufruinato perché non funziona più e quindi presto la due oltre campanaglia e ti ascolto a tutti. Ciao! Grazie! 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 Grazie!